Ciao Davide, è tornata la nostra rubrica. Una volta ogni tre settimane c'è anche Davide. Allora, mi hai chiesto di farti una domanda e io te la faccio. Non l'hai voluta sapere, quindi adesso sarà sorpreso. Allora, tu hai quasi 16 anni. Secondo te qual è l'età giusta tra i ragazzi per avere il primo rapporto sessuale? Se c'è un'età giusta secondo te, eh? Non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata, è solo un'opinione. Sì, dipende secondo me anche molto dalla persona, però da anche quello, cioè non c'è proprio l'età giusta, dipende da tu se ti senti pronto o no. Allora, ti dico questo perché ci sono ragazzi che hanno rapporti anche a 12 anni, più un rapporto sessuale, 12 o 13 anni. Però secondo me prima dei 15 anni già è troppo presto, cioè proprio è troppo eccessivo. Se tu a 15 anni ti senti pronto, è una sua scelta. E tu pensi che si debba fare con una persona di cui ti sei innamorato e quindi con cui hai comunque un feeling? Oppure a prescindere? Perché adesso c'è tanto la tendenza di tipo piantare la bandierina, no? Dire tutti l'hanno fatto, adesso lo faccio anch'io. Secondo te è giusto o sbagliato? Magari la prima volta è meglio cercare qualcuno con cui è effettivamente un feeling, però se poi ogni tanto vuoi fare una cosa senza per forza doverti sposare, mi sembra che è giusto un po' di sbaglio. Assolutamente, però utilizzando sempre... Sempre le precauzioni, i preservativi... E il? Cervello, sempre il cervello. Grazie.